VIVETE ANCORA INSIEME No, no, no. Io lo trovo fantastico. Ti dispiace cedere la tua cameretta a tuo padre? Cosa? Vieni di là. Alzati subito. Quello che è qui non lo puoi toccare, la tua parte è questa. 20% della casa è del frigo. Credi mi piaccia vederti girare nudo come un verme? Come un verme? Ho sete. Mi farò un drink. Mi daresti 20 euro per la merenda? È che ho dimenticato il portafoglio. Ok, non fa niente. Ne ho presi 10 da quello di mamma, poi me li ridai. Non è male avere un amico che ha una vita di merda, perché poi guardo la mia e mi sento super fortunato. Chi è che porta a casa degli uomini per fare una cosa a tre? E lui chi è? Il mio amante. Vostra madre è l'infomale. È meglio che me ne vada. No, tu resti qui. Potete uscire tutte e due un momento? Andate ragazzi, dobbiamo parlare tra adulti. No, mi riferivo a voi due. Idiota. Ci sarai. Tu di più. Grazie.